Le anticipazioni del segreto ci rivelano che a Puente Viegio giungerà un investigatore, tale Cristobal, intenzionato a scoprire nel dettaglio quanto successo a Salvador Castro. Donna Francisca comincerà ad avere paura sapendo di essere coinvolta nell'omicidio del marito e temendo di essere incriminata, di fatti Cristobal si impegnerà per trovare la schiacciante prova lasciata dalla matrona dopo la morte di Salvador, ovvero il documento attestante la morte firmato proprio da lei. L'intraprendente investigatore Cristobal deciderà di trovare a tutti i costi una prova che incastri la Montenegro, si dirigerà da lei e le chiederà di fare un giro di ispezioni nei suoi vasti terreni. Donna Francisca darà il consenso a Cristobal di visitare tutte le sue tenute, chiedendo al capomastro Mauricio di pedinarlo e riferire qualsiasi spostamento. Sarà proprio lì che vedremo l'investigatore recarsi al lago dove Juan e Soledad fuggivano da Francisca, stesso luogo dove venne trasportato il cadavere del terribile Salvador Castro. Nello stesso periodo arriverà a Puente Vieco anche Eulalia, ovvero, una zia del Castro. Se vuoi conoscere sempre le ultime novità iscriviti, e lascia un mi piace. Al prossimo video!